Quindicesimo dialogo. Il papà fotografo. Peta va al mercato insieme a sua mamma e a suo papà. Il papà di Peta è un fotografo e approfitta di ogni occasione per fare delle foto. Infatti anche questa volta ha portato la sua macchina fotografica con sé perché vuole fotografare le persone nel mercato. Vi lascio prima ascoltare tutto il dialogo e poi lo tradurrò frase per frase. Papa, wo ist Mama? Sie kauft etwas. Was kauft sie denn? Einen Stadtplan. Papa, ich möchte ein Sandwich essen. Nein, ein Sandwich gibt es jetzt nicht. Papa, fotografierst du die Kinder da? Nein. Wen fotografierst du denn? Die Marktfrau natürlich. Oh ja. Und dann fotografiere ich den Marktstand. Bitte, Papa. Na gut. Papa, wo ist Mama? Papa, dove è la mamma? Sie kauft etwas. Lei compra qualcosa. Was kauft sie denn? Cosa compra lei dunque? Einen Stadtplan. Una mappa della città. Papa, ich möchte ein Sandwich essen. Papa, io voglio un panino mangiare. Non, un panino da esso ora non. Per dire, non è ora di mangiare il panino. Papa, fotografierst du die Kinder da? Papa, fotografi tu i bambini là? Nein. No. Wen fotografierst du denn? Chi fotografi tu dunque? Die Marktfrau natürlich. La donna al mercato, naturalmente. Oh ja. Und dann fotografiere ich den Marktstand. Bitte, Papa. Oh sì. E poi fotografo io la bancarella. Per favore, Papa. Na gut. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene.